Le autorità cinesi hanno incarcerato l'attivista della lotta alle tangenti Liu Ping. È una delle ultime dieci attivisti ad essere stata imprigionata per aver chiesto ai funzionari cinesi di rivelare i loro patrimoni. Il suo avvocato dice che è detenuta nella provincia del Jiangxi con l'accusa di sovvertire il potere statale, un'accusa comune contro i dissidenti. Il nuovo leader della Cina, Xi Jinping, ha reso la lotta alle tangenti e alla corruzione una priorità. Almeno questo è ciò che dice. Sia lui che i suoi predecessori hanno detto che, se lasciata correre, la corruzione potrebbe portare alla fine del partito comunista. Ma l'incarcerazione di chi chiede provvedimenti per esporre il malaffare suggerisce che i discorsi contro la corruzione siano solo parole. Jiang Sujong, avvocato della Liu, dice di non sapere esattamente perché sia stata arrestata, ma ritiene abbia a che fare con la sua richiesta ai funzionali comunisti di rendere pubblici i patrimoni. In precedenza Liu aveva sostenuto i diritti delle donne e aveva concorso in modo indipendente ad una elezione locale. Jiang dice che martedì i funzionari gli hanno negato di incontrare Liu. Stava cercando di presentare delle relazioni per la procura. La famiglia di Liu non ha ricevuto un avviso legale della sua detenzione.